Montagne, maghette e mandragore. Luca Ciurleo, Claudio Emiliari, Anna Molina. Tre soggisti molto giovani e molto competenti per un libro che si sofferma sulla figura della strega attraverso i secoli fra saperi erboristici e cultura del pop con una prefazione di tutto rispetto, firmata Michela Zucca. Dove lo presentiamo? Alla fabbrica di carta, lunedì 30 aprile alle ore 16.30. Vi aspetto!